Quello che vedete non è un mostro marino. Si tratta del pesce gatto anguillastriato che abita le barriere coralline e nuota in banchi armoniosi per confondere i predatori. Il loro scopo è quello di rendere difficile al predatore l'inseguimento di un determinato pesce e di apparire più grandi di quanto siano in realtà. Inoltre, le loro pinne anteriori e dorsali hanno un veleno che può causare la morte degli esseri umani.